bella a tutti raga oggi siamo qui su un nuovo video vi volevo portare questo perché combinazione sono in vacanza in sardegna e ho beccato questa coppia di amici che in pratica suona ma sono bravissimi guardate spero che vi piacciono perché sono veramente bravi a 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 madonna raga quanto sono bravi a 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 mi raccomando raga lasciate like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto bella ciao